Un fitto giro di contrabbando internazionale di carburanti e alcolici radicato a Foggia. La Guardia di Finanza ha sgominato un sodalizio criminale all'esito di complesse indagini coordinate dalla Procura Dauna e dall'Agenzia Europea per la collaborazione giudiziaria penale, dando esecuzione all'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Foggia con un sequestro preventivo di beni per circa 1,2 milioni di euro nei confronti di 19 persone residenti tra le province di Foggia, Vellino e Napoli, ma anche in Polonia e Croazia. È emerso infatti che su Foggia e provincia fosse radicato un sodalizio criminale con connessioni all'estero dedito al contrabbando di prodotti energetici e alcolici. In particolare sarebbero stati commercializzati in evasione di imposta gasolio agricolo in favore di soggetti privi dei prescritti requisiti, solvente per vernici di produzione estera destinato illecitamente all'autotrazione e ancora alcol etilico proveniente dalla Polonia falsamente dichiarato come disinfettante ma destinato all'uso alimentare. Le indagini avrebbero da subito permesso di individuare, proprio in Polonia, i terminali del sistema di frode transnazionale per cui la Procura Foggiana ha immediatamente attivato un canale di cooperazione con i collaterali organi inquirenti polacchi. La collaborazione investigativa con le autorità giudiziarie polacche è stata agevolata dall'attività di coordinamento svolta da Eurojust.